Buongiorno amici, oggi vi mostro la borsa che ho preso su Vinted che è più falsa dei malesseri con cui esco ultimamente. Ve la faccio vedere, ve la faccio vedere e vi racconto la storia. Ero a Malta, sovra pensiero, vedo questa borsa, che ve la faccio vedere, la mini bag di Diesel, a 100 euro. È una borsa che viene sui 250 o sui 450. Io ho comprato delle cose vere su Vinted che costano veramente un fottio, ha dei prezzi super stracciati, quindi sovra pensiero la prendo. Mi arriva questa. Vi dico una cosa importante. Oltre al fatto che vi posso fare un video dove vi spiego tutti i dettagli che fanno capire che questa borsa è fake, tutti gli articoli dal 2017 al 2021, dipende dal brand, di brand costosi, devono avere all'interno un QR code, che non è un codice a barre, è un QR code che ti identifica il capo, la borsa, quel che è. Questa non ce l'ha. Quindi automaticamente ho detto, bah, cerchiamola bene, cerco in tutti i dettagli, non la trovo e poi inizio a informarmi. E in realtà questa borsa, che voi vedete così, ha mille dettagli che fanno capire che è fake.